Sembriamo in campagna, invece ci troviamo in città, Caltanissetta, in via Melfa, di fronte a noi la scuola Santa Lucia. Qui la strada, ho detto, sembriamo in campagna perché questa traversa è proprio distrutta, devastata, non solo i buchi, ma anche le erbacce. Sì, infatti è come se sarebbe dimenticata da tutti questa strada. Questa stradina che tra l'altro, come abbiamo indicato, c'è la scuola, tanti bambini che passano di qua. L'altro giorno mi è toccato fermarmi qua per evitare che qualche bambino mettesse i piedi in questo buco che c'è. Possiamo notare che il gatto si sta proprio infilando dentro il buco, quindi è profondo. Sì, è profondissimo, praticamente è tutto vuoto di sotto, quindi con qualche macchina che passa, che viene a trovare parenti, può anche sprofondare e succede qualche danno. A parte questo buco che, come abbiamo detto, è profondo, il gatto è proprio entrato dentro, ma anche andando più avanti le basole sono tutte distrutte, c'è il rischio che sprofondi qui? Sì, sì, c'è il rischio che sprofondi. Tra l'altro ho pure chiamato i vigili del fuoco, ma non sono intervenuti, hanno mandato il comandante dei vigili urbani che è venuto a verificare e ha mandato Caltacqua. Caltacqua dice che non c'è perdenza di acqua e non è di competenza loro, ma qua è un mese che abbiamo segnalato questo disastro e nessuno si fa vedere. A parte la strada distrutta, anche le erbacce stanno causando diversi problemi, possiamo notare, non si vedono con la telecamera, ma noi li notiamo, insetti di ogni genere. Esatto, anche come è dimenticata, perché c'è troppo erbacce, ogni volta che segnaliamo ci dicono che ci tocca toglierla una volta all'anno, ma qua l'esigenza non è una volta all'anno, perché gli insetti ci mangiano vivi. Quindi non so di chi è la competenza, se per favore possono intervenire a questo disastro che c'è, in questa via. Tra l'altro noi facciamo volontariato di protezione civile e ci vengono a bussare fino al cangello dicendo che non serviamo a niente, anche se siamo volontari di protezione civile non ci occupiamo del pericolo che c'è. E anche la scala che porta alla scuola e ai palazzi è distrutta. Lei mi diceva qualche signora anziana è anche caduta. Esatto, sentiamo delle voci ogni tanto che io faccio delle riunioni con i ragazzi dell'associazione e abbiamo sentito gridare perché è vecchietta che è caduta e siamo venuti a intervenire, a provvedere ad alzarla per vedere anche cosa si è fatto. Grazie a tutti.